Un colpetto così di frustrazione, non violento, ma comunque scorretto, è passibile di tre giornate che mi sembrano troppe o ne bastano due? Secondo me ne prende due. Ma la palla è irrilevante. Allora io faccio la palla, poi saltate, la palla passa sulla vostra testa e lui mi affossa. Poi? Io cerco lì. Ma gli hai dato fortissimo. No, ma gli hai dato davvero? Questo è da quattro giornate. Questo è da quattro giornate. Scusa, ma lui, io capisco che sei arrabbiato per il... E poi Ibra che va a scusarsi, va bene, ma non gliel'ha dato così forte. Così quattro giornate, così è sei mesi di scuolifica. Era più piano, secondo me. Vedo Fabrizio Pescara che è rimasto anche lui impressionante. No, però posso dirti una cosa, mi sono subito ripreso perché ho dei grandi addominali. Ah, vabbè, ai grandi addominali.